Lanciano slogan come quelli di detenuti di lunga data, i migranti finiti nel centro di accoglienza temporanea di Purnara, a Cipro. Chiedono la libertà e non si sentono protetti dall'infezione da Covid-19. Alcune persone sono qui da due o tre mesi, da gente stanca, ci si sente come in prigione, siamo fuggiti dall'oppressione, dalle carceri, ma abbiamo scoperto che qui è come stare in prigione. No, non c'è differenza. Il centro Purnara può ospitare 700 persone, al momento ne ospita circa 1.600. Secondo le autorità cipriote, nel 2020 i richiedenti asilo hanno raggiunto il 3,8% della popolazione del paese. Il ministro dell'Interno, Nuris, ha affermato che la crescita dei migranti è esponenziale e che le capacità di gestire la crisi da parte dello Stato sono ormai molto limitate.